Ciao a tutti ragazzi bentornati su Starlet's Tube, si inizia la settimana con una bella recensione librosa questo romanzo ha un po' una storia perché la Mondadori mi contattò per chiedermi se ero interessata come fanno spesso a leggere e recensire il romanzo, io accettai, mi dissero guarda dacci l'indirizzo che c'è ancora qualche cartaceo io siccome anche il cartaceo è più bello e poi mi richiede anche meno lavoro di editing del video ho detto sì, poi però vedo che questo libro non arriva, non arriva, non arriva, passa un mese e mezzo mi viene un dubbio, scusatemi ma dov'è finito questo libro? alla fine c'è stato purtroppo un disguido con le spedizioni e finalmente poi me l'hanno spedito e adesso eccolo qui pronto per essere recensito e devo dire che considerate le emozioni che mi ha donato ne è valsa assolutamente la pena aspettare oggi vi parlo di La Biblioteca delle Ultime Possibilità di Freya Samson io non conosco questa autrice, non so neanche se ha scritto altri libri che sono stati pubblicati qui in Italia vi dirò la verità, non mi sono informata però vi dico anche già subito che questo è un romanzo ideale per chi come me ama i libri perché questo appunto è una storia con cui i libri la fanno da padrone, sono i protagonisti ma è anche una storia su cui i romanzi, i libri vari possano aiutare una ragazza, una persona, una protagonista in questo caso a maturare e uscire appunto dal suo guscio un po' di solitudine intanto vi leggo la trama e poi ne parliamo meglio June Jones, timida bibliotecaria trentenne, non ha mai lasciato il sonnolento villaggio inglese in cui è cresciuta solitaria e riservata, preferisce trascorrere il tempo seppolta nei libri piuttosto che avventurarsi nel mondo e si chiude sempre più in se stessa e nei ricordi sopravvivendo con cibo d'asporto cinese e rileggendo i suoi libri preferiti a casa a un certo punto però, il consiglio comunale annuncia di voler chiudere la biblioteca dove June lavora e lei è costretta a uscire da dietro gli scaffali e trovare il coraggio necessario per salvare il proprio lavoro il cuore della comunità e il luogo che costudisce i ricordi più cari di sua madre un gruppo di eccentrici ma devoti frequentatori della biblioteca decide di portare avanti una campagna Friends of Chalcott Library per impedirne la chiusura e June, sostenendo la stessa causa, si apre ad altre persone per la prima volta da quando sua madre è morta e scopre cosa vuol dire avere degli amici inoltre incontra inoltre Alex Chen, un vecchio compagno di scuola diventato avvocato che è tornato in città per prendersi cura del padre malato ed è disposta a dare una mano i sentimenti di Alex per June sono evidenti a tutti tranne che a lei ma la vita gli serve sempre delle sorprese e per salvare il luogo e i libri che significano così tanto June dovrà finalmente imparare a fidarsi degli altri per una volta è determinata a non cadere senza lottare e forse combattendo per la sua amata biblioteca potrà salvare anche se stessa come vedete la trama è tutto un programma questa storia soprattutto, non so sta succedendo di sopra da me non lo so ragazzi cosa stanno combinando i miei genitori in questo momento robe che sbatono vabbè, non lo sapete, i miei video sono molto real life comunque, prima che mi interrompessero in questo libro come avete visto sono proprio i libri a farla da padrone perché questo piccolo villaggio ha solo questa biblioteca e quindi questo posto è un luogo ideale per tutti quelli che amano la lettura ma soprattutto è un porto sicuro per tutte le persone che magari trovano nei libri un rifugio un po' come June June appunto è un personaggio all'inizio molto statico nel senso che dopo la morte della madre questa ragazza si è chiusa in se stessa ha messo praticamente in stand by la sua vita e non ha neanche vissuto perché quella che vive June alla fine non è vita è semplicemente un trascinarsi un trascinarsi giorno dopo giorno rifugiandosi anche troppo spesso secondo me nei libri perché questo le impedisce l'attaccamento forse eccessivo verso il ricordo di sua madre soprattutto anzi il ricordo della morte di sua madre mi corrego perché la madre è sempre la mamma quando muore si è divastata dentro quindi per carità non è tanto quello è che appunto quell'evento l'ha talmente fatta chiudere in se stessa che trova rifugio solo nei libri e questo molto spesso per quanto io sia una caneta lettrice non va tanto bene perché un conto è amare la lettura ma allo stesso tempo vivere la propria vita un altro conto è rifugiarsi totalmente tra quelle pagine però non uscire poi a vivere completamente le cose belle della vita per esempio Giuno non ha mai avuto un ragazzo non è mai uscita con nessuno aveva un grande sogno fare la scrittrice dopo la morte della madre probabilmente lei ha avuto un trauma e probabilmente sarebbe dovuta andare a parlarne con qualcuno però invece di affrontare il problema andando anche da uno psicologo secondo me anche questo è un messaggio che l'autrice vuole dare se siete in un momento di stand by in un momento se vi succede qualcosa insomma che vi segna nel profondo non abbiate paura a chiedere aiuto Giuno l'ha fatto e quindi di conseguenza lei è una persona totalmente insicura quasi incapace di relazionarsi con gli altri al di fuori dei libri non si impone mai quando dovrebbe non riesce nemmeno a parlare in pubblico infatti quando arriva la notizia della chiusura della biblioteca lei si giustamente le croe al mondo addosso però ad esempio non riesce totalmente a farsi sentire cioè se c'è per esempio da c'è per esempio una parte che poi è anche l'estratto che ho scelto e l'ho scelta apposta proprio per evidenziare questo lato di Giun è che appunto non riesce neanche ad esprimersi ad esprimere il proprio pensiero tanto è timida tanto è chiusa in se stessa anche con Alex che appunto diciamo che la parte romance qui non è predominante ecco già ve lo dico assolutamente è soltanto comprimaria però è comprimaria però nel modo giusto perché per quanto appunto a Giun piaccia a Alex è talmente insicura di se stessa che non si rende neanche conto che invece a questo ragazzo lei piace parecchio e questo vedete che voglio spiegarvi Giun attraverso poi appunto i compagni del Foc che abbiamo appunto però dopo si ribattesano Foc riesce a trovare la sua identità e questa è una cosa bella grazie appunto a questo posto la biblioteca e soprattutto grazie all'amore che queste persone nutrono per questo posto lei riesce finalmente ad esternare la sua vera personalità riesce finalmente a darsi una svegliata io infatti molto spesso quando leggevo lo rimetto non mi interessa l'ho già messo anche nel video precedente ma è l'unico che ho per questi casi io a Giuna avrei detto così te devi svegliare te devi svegliare e si figlia bella te devi svegliare perché sennò così non puoi andare avanti figlia bella c'è altro nel mondo oltre oltre tutto questo infatti c'è questo personaggio che è Linda che praticamente è una pseudo mamma per Giuna perché l'ha praticamente vista crescere che le dice tu non dovresti rimanere ancorata al ricordo di tua madre tua madre non vorrebbe che tu fossi chiusa su queste quattro mura circondata dalle sue cose che ti fanno stare male senza che vai fuori a vivere la tua vita e realizzare i tuoi sogni questo è giusto è un discorso che io ho trovato molto giusto però la psicologia di Giuna è molto complessa quindi come ho detto Giuna è una persona che nella vita reale avrebbe dovuto chiedere aiuto però Giuna ha trovato diciamo il suo sostegno psicologico in questo gruppo di protestanti che sono uno migliore dell'altro in principali c'è Stanley Stanley che diventa quasi una figura paterna per lei è un personaggio anche lui che nella biblioteca ha trovato il suo porto sicuro in una vita fatta di sofferenza perché ha un passato abbastanza burrascoso quest'uomo e lui trova in Giuna appunto un'amica con cui confidarsi e soprattutto si affessiona talmente tanto che vorrebbe farla uscire dal suo guscio la loro amicizia e il loro rapporto è molto bello ricorda appunto un po' quello di padre e figli dato che Giuna il padre non l'ha conosciuto mai poi come ho detto c'è anche Alex c'è anche Alex che è evidente che c'ha una cotta per lei però lei ma figurati se uno così ecco una cosa che non ho veramente che vabbè non voglio polemizzare su questa cosa perché comunque poi noi ragazze molto spesso sul nostro aspetto siamo insicure quindi questo ci sta però cazzo si vede però Giuna è talmente appunto anche inesperta perché non ha mai vissuto veramente da non accorgersene da non accorgersene non se ne accorgere che questa è pronta ad aprirla in due come un melone con simpatia è sempre con simpatia poi c'è Mrs. B che è una vecchia una della vecchia guardia una che praticamente ha passato la vita sulle barricate diciamo così e poi ci sono anche Chantal e Jackson che sono la parte piccolina perché sono appunto due ragazzini che vivono appunto in questa libreria e quindi sono appunto questo gruppo in Giune in questo gruppo troverà la sua famiglia troverà un modo finalmente di aprirsi di uscire di spiccare il volo di sbocciare ed è un processo che leggerlo è veramente molto bello poi in questo libro si affrontano anche come veramente molto spesso le amministrazioni comunali le persone e gli uomini soprattutto facciano veramente cagare alla merda cioè veramente una cosa allucinante questo libro è un romanzo di grande riflessione di grandi emozioni è un romanzo non soltanto di libri ma anche di crescita di evoluzione di passione di bastardaggine perché c'è anche quella è veramente un agglomerato e poi è scritto veramente bene è scorrevole non è pesante per il genere appunto che tratta anzi i capitoli sono molto fluidi può succedere di tutto ti cimmergi poi nella situazione che vivono queste persone che stanno vedendo il loro punto di riferimento venire chiuso per gli arrivisti bastardi che pensano solo ai soldi è un grande messaggio questo da lanciare secondo me quindi io che altro posso dirvi ragazzi questo libro davvero è stata una bellissima sorpresa sapete che io con la narrativa barra narrativa contemporanea ci vado sempre con i piedi di piombo perché è un genere che leggo poco ma non per altro perché comunque non ho mai trovato niente che mi appassionasse in questo caso la Mondadori mi ha attirato con la faccenda dei libri perché sanno che io li amo quindi di conseguenza quando ho letto la trama ho detto questo è il libro che fa per me anche se è di narrativa è il libro che fa per me l'ho letteralmente divorato non ci ho messo neanche una settimana quindi e io adesso me la sto prendendo comoda con le letture sapete adesso i libri ve li gusto come la vallelata quindi di conseguenza ragazzi se amate i libri ma se amate anche le storie profonde di crescita di evoluzione di amore di amicizia di passione e che vi faccia anche un po' incazzare la libreria delle ultime possibilità fa assolutamente e adesso passiamo al giochino dell'estrattino in questo caso come vi ho detto ho scelto proprio un estratto che secondo me vi darà l'idea del personaggio di Giuna all'inizio così dopo spero almeno dopo aver ascoltato questo estratto avrete voglia di vedere come vanno avanti le cose e soprattutto come evolverà questo personaggio e andrete nel link in descrizione perché vi lascio come sempre in descrizione il link di Amazon per l'acquisto lo potete trovare comunque anche in tutte le librerie di store online perché è edito da Mondadori quindi lo trovate da per tutto io vi lascio Amazon perché è quello più gettonato perché so che dove andate tutti però se siete in libreria in giro vi passate davanti a un mondo di ristoro una feltrinelli e lo trovate prendetelo assolutamente è un consiglio già che vi do però se siete pigri amate lo shopping online vi lascio il link in descrizione e spero che con questo estratto che vi leggerò ci andrete e comprirete questo meraviglioso romanzo June si guardò intorno quasi tutti i presenti avevano un'aria triste e rassegnata ricordò le lacrime di Chantal e pensò a sua madre che in quell'istante si sarebbe alzata in piedi e avrebbe dato una strigliata al consiglio elencando tutti i motivi per cui la biblioteca era importante cosa aveva detto Linda l'altro giorno tua madre non c'è perciò dovrai portare avanti tu questa battaglia per lei June inspirò lentamente e alzò la mano a mezz'aria Brian sospirò sì tutti gli sguardi si spostarono su di lei sentì il cuore martellare nel petto e quando apri bocca non uscirono parole forza non abbiamo tutta la notte la incalzò Brian io noi balbettò June nella stanza non volava una mosca tutte le orecchie erano tese ad ascoltarla qualche fila più avanti Ryan del giornale puntò il cellulare nella sua direzione dietro di lui vide Mejorie un'espressione severa sul volto avventì un'attenzione nelle costole come se qualcuno gliele stesse schiacciando e alla fine si accasciò sulla sedia e chiuse gli occhi bene se non c'è altro dichiarò chiuso l'incontro disse Brian e a quelle parole seguirono il raschiare delle sedie ed un improvviso strepitio di voci June rimase seduta con gli occhi chiusi pregando che il pavimento si squarciasse e la inghiottisse ecco vedete da questo estratto si può capire quanto June sia davvero insicura nonostante comunque lei desideri lottare per la biblioteca e e combattere appunto anche per sua madre per tutto ciò che la biblioteca ha significato per lei in questo momento in questo preciso momento che vi ho letto non ci riesce perché ancora talmente spaventata talmente insicura talmente timida che ha visto tutti questi guardarle tutto il resto e le è venuto un bel attacco di panico quindi in sostanza è quello che le è successo quindi se volete vedere come la nostra June piano piano imparerà a sciogliersi un po' di più e soprattutto a tirare fuori le unghie mi raccomando date nel link in descrizione e comprate questo splendido libro bene anche questa recensione si conclude qui io spero che vi sia piaciuta vi ricordo come sempre che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale soprattutto seguirmi su Instagram link in descrizione in descrizione troverete anche i link di TikTok e Waywayful se poi volete sostenermi con una piccola donazione per aiutarmi a crescere a comprare attenzature un po' un po' più belle per il canale magliette un po' più a tema nerdo cose così potete trovare il tasto grazie personalizzate il messaggio se decidete di farlo ricordatevi soprattutto di cliccare sulla campanella per non perdervi assolutamente nessun nuovo video e ragazzi colgo la parla al balzo non lo faccio mai ma comunque visto che lo fanno tutti perché no il 3 di giugno è il mio compleanno quindi in descrizione potete trovare anche la mia wishlist di Amazon se volete farmi un piccolo pensierino al posto della donazione per dimostrarmi il vostro affetto il vostro sostegno il vostro calore non siete obbligati assolutamente io so che comunque voi mi volete bene lo stesso ma se avete voglia di rendere il mio compleanno un pochino più speciale a livello materiale che i regali sono sempre ben graditi andate nel link in descrizione e trovate la mia wishlist di Amazon senza impegno io vi vorrò bene lo stesso ma ve lo dico nel caso comunque non mi seguiste dappertutto vi ricordo poi che in descrizione troverete i link delle pagine facebook dedicata a The Walking Dead Care of Italia e The Walking Dead Ita Family Care of Italia in questo momento siamo fermi perché siamo impegnatissime e tutto il resto però stiamo pensando a qualche live per spezzare la monotonia in attesa della terza e ultima parte di questa undicesima e ultima stagione se non ci siete mai stati andateci perché potete trovare tante cose belle bellissime inerenti non soltanto ai Cariel o a Carole e Dary ma proprio inerenti a tutta la serie e soprattutto poi passate anche su The Walking Dead Ita Family che è una pagina con cui collaboriamo appassionati e informati tanti e quasi anche forse più di noi dato che loro trattano a tutto spettro l'universo The Walking Dead spin-off compresi e potete trovare anche tante curiosità degli attori fuori e dentro il set e tante immagini e video meme bellissime e divertenti quindi ragazzi se amate The Walking Dead seguite queste due splendide pagine Facebook se questa recensione vi è piaciuta mettetemi un bel pollice in su e fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate se avete letto questo libro se vi è piaciuto fatemelo sapere se lo leggerete perché vi ho incuriosito mi raccomando fatevi sentire nei commenti ragazzi vi aspetto ragazzi vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti